pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati questa quarta domenica la celeberrima domenica del buon pastore dove la chiesa prega in particolare per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata quindi vi raccomando preghiamo per questa santa intenzione e a voi genitori in ascolto pregate generosamente che dio chiami ma non a cominciare dalla porta accanto qualcuno potrebbe pensare che il tema del buon pastore sia qualcosa di devozionistico di bambinesco in realtà è qualcosa di decisivo per quanto ci si possa ritenere autonomi tutti abbiamo bisogno di pastori di qualcuno che si prenda cura di noi sino quando siamo piccolini di qualcuno qualcosa che guidi la nostra vita le nostre scelte il punto è chi ci conduce alla verità chi ci insegna ad amare chi ci porta oltre noi stessi oltre le soglie della morte gesù dio fattosi uomo dice io sono il bel pastore lui è il pastore quello vero quello bello che offre la sua vita per le pecorelle che ci guida ci protegge e ci conduce sulle sponde dell'eternità perciò i primi cristiani amavano raffigurare nelle catacombe il buon pastore con la pecorella sulle spalle e lui che la porta in salvo di gesù buon pastore il brano evangelico di questa domenica mette in risalto alcune caratteristiche noi vediamo due punti primo la relazione che gesù ha con il credente le sue pecore e ciò che gesù dona al credente primo punto le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono per cogliere la bellezza di queste parole pensiamo ai pastori al tempo di gesù e si trascorrevano il loro tempo con il gregge arrivando a conoscere una ad una le pecorelle dandogli anche nomignoli e le pecorelle conoscevano il pastore e la sua voce la notte i pastori le portavano in caverne poco profonde o nell'ovile talvolta era in comune più greggi vi si radunavano spesso ecco di mattina una scena toccante le greggi uscivano al pascolo ogni pastore camminando chiamava le sue pecore ed esse senza confondersi seguivano il loro pastore riconoscendone la voce ecco chi è dunque il credente uno che conosce gesù cioè che vive una relazione intima e profonda con lui che ne ascolta la voce e la segue tutto qui concreto e semplice le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco c'è dunque un ascolto che fa sentire conosciuti un ascolto che conduce all'intimità con dio infatti ci conduce così parlandoci e ci parla nello spirito santo attraverso il vangelo per mezzo della mamma chiesa specia messa nell'interiorità con la sua parola gesù parla al nostro cuore facendoci sentire conosciuti amati compresi fino in fondo ed è l'ascolto di questa parola che conduce alla conoscenza cioè l'esperienza intima di dio perciò isacco di ninive diceva ricordatevi di dio rimanete gli vicini e obbedienti nei giorni della prosperità potrete contare sulla sua parola nei giorni difficili poiché la preghiera vi renderà sicuri della sua presenza costante rimanete incessantemente dinanzi al suo volto pensatelo ricordatelo nel vostro cuore altrimenti se lo incontrate appena di tanto in tanto rischiate di perdere la vostra intimità con lui la familiarità tra gli uomini avviene mediante la presenza fisica la familiarità con dio consiste nella meditazione e nell'abbandono in lui durante la preghiera l'ascolto dunque conduce all'intimità quante volte ho sentito dire da persone che partecipano attivamente all'eucaristia o che meditano il santo vangelo dire ma questa parola sembrava rivolta proprio a me sembrava mi leggesse dentro avevo questa cosa in mente e ho trovato la risposta sì miei cari è proprio così il signore ci parla quella parola la percepiamo rivolta a noi direttamente il vangelo non è lettera morta è parola di dio che parla personalmente a ciascuno e ci chiama ad una risposta emblematico a tal proposito vista anche la giornata dedicata alle vocazioni l'esperienza di san francesco d'assisi una tradizione narra dell'ingresso di francesco insieme a bernardo suo primo seguace nella chiesa di san nicolò dove ispirato dal signore apri per tre volte il libro dei vangeli trovando successivamente le tre espressioni se vuoi essere perfetto va vendi quello che hai e dallo ai poveri non portate nulla durante il viaggio chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua la reazione di francesco mostra che gli accolse quelle parole evangeliche come parole vive rivolte a lui a bernardo parole alle quali obbedire e da mettere in pratica subito e disse questa è la vita e la regola nostra e di tutti quelli che vorranno unirsi alla nostra compagnia ecco vedete per san francesco le parole del vangelo erano consigli da seguire comandi a cui obbedire parole di dio con il quale entrare in dialogo e rappresentavano per lui la rivelazione della volontà del signore tant'è che lui dirà nel suo testamento dopo che il signore mi dette fratelli nessuno mi mostrava cosa dovessi fare ma lo stesso altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo vangelo la rivelazione di cui parla non si riferisce ad alcun fenomeno mistico straordinario ma all'ascolto delle parole evangeliche che segneranno la radicalità della sua vita le pecorelle dunque ascoltano si sentono conosciute e seguono seguire gesù dunque fare ciò che lui dice è conseguenza dell'averlo ascoltato e dell'essere entrati in intimità con lui il conoscere man mano il suo amore la sua bellezza la luce della sua verità ti portano a volerli obbedire a volerlo seguire seguirlo non è uno sforzo volontaristico ma è più un'opera di assecondamento a quella parola che dio ha seminato nel nostro cuore si tratterà poi di seguire quella voce tra le tante voci lasciandoci guidare da lui nelle vicissitudini di ogni giorno esercitando l'arte di discernere nelle concrete situazioni della vita il secondo punto è che cosa dona questo bel pastore alle sue pecorelle tre cose meravigliose gesù dice io do loro la vita eterna non andranno perdute in eterno nessuno le strapperà dalla mia mano primo io do loro la vita eterna zoe aionion in greco cioè la vita piena indistruttibile di dio già ora vita seminata in noi come germe potente come linfa vitale mentre la vita biologica giorno dopo giorno si consuma la vita di dio in me che mi dona gesù alimentata con i sacramenti cresce si rinnova conducendomi verso la pienezza e secondo non andranno perdute in eterno quanto è bella questa promessa tutti in fondo abbiamo paura di perderci di perdere la vita di perdere il bene fatto di perdere le persone care gesù dice con me non andrai perduto e permettetemi se sei con lui nulla di ciò che vivi di ciò che profuma d'amore di sacrificio andrà perduto non andrà perduta una goccia del tuo sudore versato per amore non andrà perduto un secondo della tua agonia sul letto di dolore non andrà perduto il male sopportato che lì per lì sembrava averti vinto e schiacciato non andrà perduto il bene fatto anche un solo bicchiere d'acqua dato quel bene in cielo a pienezza sarà portato infine gesù prosegue con un raddoppio straordinario nessuno le strapperà dalla mia mano e se avessimo ancora dubbi nessuno le può strappare dalla mano del padre mio il padre mio è più grande di tutti e io e il padre siamo una cosa sola cari fratelli e sorelle la vita può strapparci la salute i beni può anche toglierci le persone care ma niente può strapparci dalle sue mani in lui la nostra vita è al sicuro come passerotti nel nido come bimbo tra le braccia della mamma quanto ci fa bene pensare io non sono mio io sono di dio la mia vita gli appartiene la vita delle persone che amo non è mia è sua siamo cosa sua apparteniamo a lui allora mi sento al sicuro mi sento protetto so che non ho nulla da temere nulla di cui aver paura affronteremo cose grandi cose belle prove dure difficili ma dio è più grande è più grande del nostro cuore è più grande del nostro peccato è più grande di tutto ciò che ci può angustiare se siamo in cristo nulla potrà mai separarci dall'amore di dio nulla può vincere il suo amore per noi ciò che conta è ascoltare lui amare lui seguire lui e in lui la nostra vita è al sicuro a me nulla appartiene ma io appartengo a lui e questo basta che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti